condannato a morte sono cinque settimane che io vivo con questo pensiero sempre solo con esso sempre agghiacciato dalla sua presenza sempre curvo sotto il suo peso un tempo poiché mi sembra siano passati anni e non settimane io ero un uomo come tutti gli altri ogni giorno ogni ora ogni minuto aveva le sue fantasie e il mio spirito giovane e ricco si divertiva a snodarmele davanti l'una dopo l'altra senza alcun ordine o regola ricamando di arabeschi infiniti in tessuto di questa misera vita erano ragazze splendide cappe d'arcivescovo vinte battaglie e teatri illuminati e sonori e ragazze ancora e solitarie passeggiate di notte sotto le larghe braccia dei castagni era sempre festa nella mia immaginazione potevo sempre pensare a quel che volevo ero libero ora invece sono carcerato il mio corpo è in catena in una cella e l'anima è prigioniera ad una idea un'orribile atroce implacabile idea non ho più che un pensiero che una convinzione che una certezza condannato a morte qualsiasi cosa io faccia questo pensiero infernale è sempre lì solo e geloso ai miei fianchi come uno spettro di piombo che mi toglie ogni distrazione con gli occhi sempre fissi nei miei sempre pronto a scuotermi con le sue mani di ghiaccio non appena voglia girare la testa o abbassare le palpebre si insinua in tutte le maniere là dove cerca di fuggirlo il mio spirito si mischia come un orribile ritornello a tutte le parole che mi rivolgono mi assedia quando sono sveglio spia il mio sonno agitato infine come un orribile coltello mi appare nei sogni allora mi sveglio di colpo e balzandolo a sedere spaventato a tale visione esclamo ah non era che un sogno ebbene prima ancora che i miei occhi pesanti abbian potuto aprirsi abbastanza per contemplare questo spaventoso pensiero scritto nell'orribile realtà che mi circonda sul viscido e trasudante pavimento della cella nel pallido lume della lucerna nella tela grossolana dei vestiti sulla tetra figura del soldato di guardia la cui geberna luccica al di là dello spioncino mi sembra che una voce mi abbia mormorato all'orecchio condannato a morte erano tre giorni che il mio processo era iniziato tre giorni che il mio nome e il mio delitto richiamavano ogni mattina un nugolo di spettatori che venivano a calare sui banchi delle udienze come corvi intorno a un cadavere tre giorni che tutta quella fantasmagoria di giudici di testimoni, di avvocati, di procuratori del re mi passava e mi ripassava davanti alle volte grottesca e alle volte spaventosa e sempre ad ogni modo cupa e terribile durante le due prime notti piena di inquietudini e di terrori non avevo potuto dormire ma terza alla fine dormì di noia e fatica a mezzanotte infatti lasciati i giurati riuniti per deliberare mi avevano riportato sulla paglia della prigione e immediatamente ero piombato in un profondissimo sonno d'oblio dopo molti e molti giorni erano quelle le prime ore di riposo quando mi vennero a svegliare ero ancora nel più profondo del sonno questa volta non bastarono davvero nei passi pesanti e le suole chiodate del secondino nel tintinnio del suo mazzo di chiavi nel rauco cigolio del catenaccio per farmi uscire dall'etargo in cui ero caduto ci volle la sua voce rude al mio orecchio e la sua mano pesante sul mio braccio alzatevi su mi alzai intontito e mi misi a sedere sul letto in quel momento dalla stretta ed alta finestra della cella vidi sul soffitto del corridoio vicino solo cielo che mi fu dato intravedere quel riflesso dorato in cui degli occhi abituati alle tenebre di una prigione sanno così bene riconoscere il sole io amo il sole è una bella giornata disse il secondino e gli restò un momento senza rispondermi come se non sapesse se valesse la pena di spendere una parola poi con qualche sforzo mormorò bruscamente può darsi e stai immobile coi sensi non ancora ben svegli la bocca sorridente l'occhio fisso su quel dolce riverbero che chiazzava il soffitto ecco una bella giornata ripetei sì mi rispose quello bisogna andare queste poche parole come l'ostacolo che interrompe il volo di un insetto mi ricettarono violentemente nella realtà improvvisamente rividi come nel terrore di un lampo la cupa sala del tribunale il tavolo a ferro di cavallo dei giudici i tre ordini di testimoni delle facce un poco ebeti i due gendermi ai capi del mio banco l'agitarsi delle toghe nere il formicolare delle teste della fulla in fondo nell'ombra e il loro arrestarsi su di me lo sguardo fisso di quei dodici giurati che avevano vegliato mentre io dormivo mi alzai mi battevano i denti e mi tremavano le mani e al primo passo che feci traballai come un facchino troppo carico tuttavia seguì il carceriere i due gendarmi mi aspettavano sulla soglia della cella rimessemi le manette ne chiusero con cura la piccola complicata serratura mentre io li lasciavo fare nell'attraversare un cortile interno l'aria viva del mattino mi rianimò alzai la testa il cielo era azzurro e i raggi del sole rotti dai lunghi camini disegnavano delle grandi zone di luce sulla cima dei tristi ed alti muri della prigione era bello davvero salimmo per una scala a chiocciola percorremmo un corridoio poi un altro poi ancora un terzo alla fine si aprì una piccola porta e un'aria calda e piena di brusio mi investì in viso era il soffio della folla nella sala del processo entrai alla mia vista ci fu un rumore di armi e di voci e si spostarono rumorosamente le panche le ringhiere di legno scricchiolarono e mentre attraversavo la lunga sala tra due file di pubblico a stento trattenuto dai soldati mi sembrò di essere come il centro al quale si attaccassero i fili che facevano muovere tutte quelle facce curiose e protese proprio in quel momento mi accorsi di essere senza ferri ma non riuscii più a ricordarmi né dove né quando me li avessero tolti poi si fece un grande silenzio era giunto al mio posto nel momento in cui il tumulto cessò tra la folla cessò anche nelle mie idee e di colpo compresi chiaramente ciò che non avevo fatto che entra a vedere confusamente fino ad allora che il momento decisivo cioè era arrivato e che io ero là per ascoltare la mia sentenza non so come ma questa idea non mi fece terrore le finestre erano aperte e l'aria e il brusio della città arrivavano liberamente da fuori la sala era chiara come per un giorno di nozze ed i allegri raggi del sole tracciavano qua e là la figura luminosa delle finestre ora allungata sul pavimento ora distesa sui tavoli ora rotta nell'angolo del muro i giudici in fondo alla sala avevano l'aria soddisfatta per la gioia probabilmente di aver quasi finito l'infiso del presidente dolciamente rischierato dal riflesso di un vetro aveva qualcosa di calmo e di buono e un giovane assessore gualcendo il collarino discorreva quasi allegramente con una graziosa signora in capellino rosa che se ne stava dietro di lui solo i giurati sembravano pallidi e abbattuti ma era come sembrava per la fatica di aver vegliato tutta la notte qualcuno infatti sbadigliava e niente faceva sospettare in loro degli uomini che stessero per pronunciare una sentenza di morte nell'aspetto di quei buoni borghesi io non leggevo che una gran voglia di dormire di fronte a me una finestra era completamente spalancata sentivo ridere delle fioraie sulla strada e sul davanzale un piccolo fiore giallo tutto pieno di sole giocava con il vento in una crepa come avrebbe mai potuto nascere un'idea sinistra in mezzo a immagini tanto piacevoli inondato di aria e di sole non mi fu possibile pensare ad altro che alla libertà la speranza mi brillava nel cuore come il giorno all'intorno e tranquillo aspettavo la sentenza come si aspettano la liberazione e la vita nel frattempo attescio già da un poco è raggiunto il mio avvocato preso al fine il suo posto si piegò verso di me con un sorriso io spero mi disse non è vero? risposi allegro e sorridendo anch'io sì riprese e non so ancora niente della loro motivazione ma certo hanno dovuto escludere la premeditazione e allora non saranno di sicuro che i lavori forzati ma cosa dite mai? replicò indignato piuttosto cento volte la morte sì la morte e del resto mi ripeteva una voce da dentro cosa rischio a dire questo? si è mai pronunciata sentenza di morte se in una mezzanotte al lume delle torce in una sala tetra e nera durante una fredda e piovosa notte d'inverno il mese di agosto alle otto del mattino con una così bella giornata e questi buoni giurati sul via è impossibile e i miei occhi tornavano a fissarsi sul piccolo fiore giallo che tremava al sole d'improvviso il presidente che non aspettava che l'avvocato mi invitò ad alzarmi i soldati presentarono le armi e come per una scossa elettrica tutta l'assemblea fu in piedi nello stesso istante una figura scialba insignificante sistemata in un tavolo al di sotto del tribunale il segretario io penso prese allora la parola e lesse il verdetto che i giurati avevano pronunciato durante la mia assenza un sudore freddo uscì da ogni parte del mio corpo e mi dovetti appoggiare al muro per non cadere avvocato chiese il presidente avete qualcosa da dire sull'applicazione della pena io avrei avuto tutto da dire io ma non mi venne in mente e la lingua mi rimase incollata al palato si alzò allora il mio difensore capì che cercava di attenuare la dichiarazione della giuria e di far sostituire alla pena richiesta quell'altra che io ero così indignato di vederli sperare bisogna che l'indignazione fosse ben forte per farsi strada attraverso le mille emozioni che ci contendevano la mia attenzione voglio infatti ripetere ad alta voce quel che gli avevo già detto piuttosto la morte ma non mancò il fiato e non potei far altro che fermarlo bruscamente per il braccio gridando con forza convulsa no il procuratore generale ribatte all'avvocato e io lo ascoltai con soddisfazione insensata e poi i giudici uscirono poi rientrarono e il presidente mi lesse la sentenza condannato a morte disse la folla e mentre mi portavano fuori tutta quella gente si rovesciò sui miei passi con il fragore di un edificio che crolla camminavo ebro e intontito dentro di me era avvenuta una rivoluzione fino alla condanna a morte mi ero sentito respirare palpitare vivere in mezzo a tutti gli altri ora invece distinguevo chiaramente un abisso tra me e il mondo neanche mi appariva più sotto lo stesso aspetto di prima quelle ampie luminose finestre quel bel sole quel cielo sereno quel fiore grazioso tutto era pallido e bianco come un sudario e quegli uomini quelle donne quei bambini che si accalcavano al mio passaggio mi sembravano fantasmi in fondo alla scala mi aspettava una nera e sudicia vettura al momento di salirvi guardai per caso nella piazza un condannato a morte gridavano i passanti correndo verso la vettura e attraverso la nube che mi sembrava essersi frapposta fra me e le cose distinsi due ragazze che mi seguivano con gli occhi avidi bene disse la più giovane battendo le mani sarà tra sei settimane ebbene perché no gli uomini mi ricordo di aver letto in non so più che libro dove non c'era che quello di buono gli uomini sono tutti dei condannati a morte con quelle dilazioni indefinite che c'è dunque di così cambiato nella mia situazione dal momento in cui è stata pronunciata la mia condanna quanta gente è morta che si preparava a una lunga vita quanti mi hanno preceduto che giovani liberi e sani contavano di andare a vedere a rotolare la mia testa nel tale giorno in place de greve quanti forse mi precederanno di quelli che ora camminano e respirano all'aperto ed entrano ed escono quando vogliono e poi che cosa amai dunque di così desiderabile la vita per me la giornata piena di tristezza e il pane nero della prigione la razione di brodaglia assorbita nella tinozza dei galeotti l'essere strapazzato io che ho avuto un'educazione raffinata l'essere svillaneggiato da secondini e guardaciurma non vedere essere umano che mi creda degno di una parola trasalire senza posa per quel che ho fatto e quel che mi faranno ecco qua più o meno i soli beni che il boia mi possa ormai togliere ma non importa è orribile ugualmente la vettura nera mi trasporto qui in questo odioso bisettre visto da lontano l'edificio ha qualcosa di maestoso si stende all'orizzonte davanti a una collina e da distante conserva ancora un po' del suo antico splendore un'aria da castello reale ma a mano a mano che ci si avvicina al palazzo diventa sempre più una catapecchia i muri in rovina feriscono la vista è un nonso che di squallido e laido ne deturpa tanto la facciata regale e si direbbe che i muri sono rosi come da una lebra niente più imposte né vetri ma robuste inferriate a cui si aggrappa qualche pallida e macilenta figura di un galeotto o di un pazzo è la vita vista da vicino appena arrivato delle mani di ferro si impadronirono di me si moltiplicarono le precauzioni niente coltello niente forchetta per mangiare e la camicia di forza una specie di sacco di tela canapa imprigionò le mie braccia si rispondeva infatti della mia vita avevo ricorso in cassazione e si poteva avere sulle spalle questa noiosa faccenda per sei o sette settimane l'importante era dunque di conservarmi sano e salvo per la place de greve che si rispondeva che si rispondeva si rispondeva